Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Oggi sono al casa di Alfonso e che cosa fai? Cosa fai? Ah ci sei anche tu squalo! Squalo! Squalo aspetta, cosa guardi Alfonso? C'è anche da Netflix Shark Dog, bello! Bello! Squalo cane! Su Netflix, una nuova serie! Il terzo l'hanno fa, l'hanno fa! E noi non l'avevamo mai vista! Mai! Bella questa! Ti piace questa serie? Sì! Bella? Sì! Leccia! Lo sai che tra qualche giorno esce una nuova serie? Quale? La nuova stagione di Jurassic World Campo Cretaceo! Yeah! Bellissimo! Nuova stagione, quinta stagione! Nuove avventure Campo Cretaceo! Io ci sono sempre! Io sono Tiri! Cosa parla questa serie di Netflix? Cosa parla questa serie di Netflix? Dead it! Questo bambino? Ha un cane squalo! Voleva un animale domestico! Voleva un cane in realtà! Voleva un cane? Quinto cane! E penso che stava facendo lezioni di nuoto in spiaggia! A mare! A mare! A mare! E poi stava vedendo la pinna che stava andando per il mare! Lui si era spaventato! La sua istruttrice non lo credeva! Poi! Ricordo talmente quello che l'istruttrice l'ha presa sotto con la tavola da turf e l'ha portata alla riva! Poi ha scoperto che Sharkdog poteva andare su tutti i materiali! Cioè li poteva distruggere! Poi se le portate a casa e dall'isola iniziate le loro avventure! Hmm! Direi che è interessante! Hmm? Sì! Ma tu hai una caramella? Vorrei mangiare una caramella! Non ce l'ha! Ce l'hai una caramella? No! Hmm! Te li sei procurate con queste caramelle? Hmm! 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 Buone! Hmm! 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 Si appiccichano tra i denti! Ma sono buone! Penso che sono le tue preferite! ragazzi io vi saluto finisco di vedere la mia serie lasciate un like, attivate la campana iscrivetevi, ciao io invece resto con te sarò il più fastidioso del mondo ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video mmmm